Ah ma è chiuso Io ho solo 8k Non mi riesco a spenderli Li tengo per domenica Va bene Zitti non parlate di Mac L'altro giorno Sai che tornando da Milano siamo andati al Burger King Quindi domanda ragazzi Burger King È meglio di McDonald? Uno in chat Se pensate di sì Sì vero Il Mac chiude tardissimo Ha voglia? No Il Mac è chimico Ah guarda te li fa proprio vedere Ma il fatto che ti faccio vedere non è male Sì ma il problema è che io come so qual è il divore a speranze in tutto questo Cioè tu mi hai detto difendi solo il divore Difendi solo il divore ma ci sono 3 totem così da difendere E non so quale dei due è divore e quale dei due è l'ex E si continua con il distruggi ogni pallet esistente nella mappa Perché è così che funziona sto killer sfortunatamente Ok Ma il fatto di vederli comunque aiuta davvero tanto in realtà Un perk forte di killer che non usa nessuno che viene poco usato Penso nessuno Non mi viene in mente in questo momento un perk giocato che sia forte in generale E che poco viene usato Vabbè c'ho la sprint boss in realtà quindi abbiamo un po' rallentata Puoi non correre verso Luke? Oh Ecco niente sono un cavolo anche io Corri lontana dal Luke e non verso Luke Mi perdoni eh Io voglio le mie stack di divora però Nessuno perché quelli forti li usano per Eh li usano tutti cioè Pentimento Pentimento non è sotto l'automobile L'ho usato nelle build L'ho usato in molte build in realtà anche secondo me O almeno io la uso in molte build poi Beh noi sfruttiamo il fatto che abbiamo divora speranza E cerchiamo subito di proccarlo Tipo così E questo è ottimo Perché noi abbiamo già il divora pronto adesso In effetti è vero Sarà che O lo usi con giocatole dura? Beh è proprio quello che ho fatto È fatto per quello Forse lo devo aspettare Ma l'urlo mi ha permesso L'urlo non le ha fatto droppare il pallet What? C'era un altro ok Credo almeno ci fosse un altro Sì Ah figo E mori no Qua la sola è andata su uno che è full vita Perfetto Perfetto Di sapere come usarlo Vabbè Quello era particolare Ma penso che sia stato culo eh I totem non li calcolano di striscio Ho rotto il totem Ciao gusti Buonanotte Grazie di essere passato caro Ti ho provato Ci ho provato tantissimo A swingar attraverso la finestra Uno stregatto? Ciao Eva Come sta Eva? Come stai? Come stai? Che ci racconti di bello cara? Ciao Dante Buonanotte Grazie di essere passato E boom abbiamo finito No forse Era l'altro forse Sì era l'altro L'head o no Tanto vale che l'avuncino Ora è solo il divora Ho vinto il 50-50 del divora Vabbè dai Ma l'hanno liberata Mentre la stavo Mentre la stavo Vccando Feels fucking bad Non so se ci arrivo Ci provo Ah di pochissimo Andiamo a difendere il totem Come dici tu Perchè questa non urla? C'è calma No non ha calma Perchè questa non urla però? Perchè urla quando l'ha hitto Perchè? Con queste donne Surleria è good Sì effettivamente è vero Non deve essere male Ha mal di gola Ma non capito perchè non urla Quando la spotto con questo Anche lei Perchè non ha urlato? Ah perchè mi devono guardare Per urlare Hai ragione Se non ti guardano Vedi solo Laura Hai ragione Hai ragione Ma dimentico sempre Di sta cosa Te lo devo aspettare Effettivamente Non so perchè Guarda hanno messo Laura Sì è vero Che hanno messo Laura E' buono E' molto buono Per i mind game Quando sono già a 5 Non mi frega un cazzo Ma d'orco 2 Io l'odio sto gioco D'orco 2 Sì è che non ho mai visto Il mori normale Povero No volevo vedere Il mori Scusate Sono distratto Ok la prossima Non so se ho Non ho il programma aperto Ragazzi Ok ce l'ho aperto Sta cosa che se Premi in tasso destro Rimani Staggerato a vita Porco 2 Mi dà un fastidio Ma a me non sembrano Indered E' solo la mia impressione Non mi sembrano rallentati Boh Sarò io Se sono accorti solo oggi O comunque Nell'ultima patch Mi sa Lo volevo fare Nell'ultimo momento Non ci sono riuscito Tanto troverò la bottiglia Prima lei Vero Invece no Invece no Lo tratta io Scusare Cosa esce eri miei eh, però. Vabbè? Allontano il mic, lo dico sempre, vabbè. Mic ha perfetto. Oddio che paura. Adesso mi vedete tutti tra sette giorni, raga, attenti eh. Sette metri di rallentamento. Probabilmente non li ho rallentati perché non hanno sette metri, può essere?